Uuuuuh 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 Io sono Marco Cavalloni Mi chiamo Roberto, sono Bini, mi chiamo Mi chiamo Michele Sono Cesare Sono Frenchi dell'Abarth Club Svizzera Massimo il nome, ciao, sono Piero Vanzetti Mi chiamo Sara Mio figlio si chiama pure Carlo, come Carlo Abarth È la prima volta che vengo all'Abarth Day e devo dire ragazzi è una grande grande storia Mi piace sottolineare la passione che si vede in questo evento che è proprio genuina Abarth ormai è diventata per me una filosofia di vita Una passione Rabbiosa Tanti sacrifici ma che ottengo sempre ogni giorno una cosa fantastica Bestiale Emozione pura Parte della mia passione per le auto nata da bambino E la storia dell'automobilismo italiano Orgoglio Consenso di libertà La parte speciale che sta nelle persone normali Incontri, raduni, track day E a me piace andare veloce Una grandissima passione Sostanzialmente essendo uno che nella macchina riversa sentimenti Ecco in Abarth al momento io l'anima la trovo Marco prestigioso Abarth significa giovane E funge con lo scolpione Brabinaria Per il futuro Per il futuro E' un'altra Un po' Un po' Un po' Un po' Plus Un po' Un po' Abarth SS. Provare la 500 SS è stato molto molto divertente. Veloce, un buon assetto, una bella tenuta di strada. Sopra l'aspettativa. Una figata. È in pista che si apprezza la vera potenzialità di questa macchina. A Varano sembra che sia proprio il posto giusto dove correre. Solo Abarth.